John Bourne ragazzi, John Bourne e benvenuti in questo nuovo video. Juventus, anzi Verona Juventus per l'esattezza, è successo di tutto, è successa qualunque cosa in questa partita, è veramente successo di tutto. Prima di iniziare, due cose molto importanti, la prima iscrivetevi al canale, mi raccomando perché ci tengo tantissimo, la seconda vi lascio qui sotto in descrizione il link di Sportium Lab, mi raccomando, fateci un salto, potete provare a vincere, biglietti per andare allo stadio, biglietti VIP per andare allo stadio a vedere partiti di Serie A e europei, di Milan, Inter, Juve, Roma, Lazio e Napoli, quindi mi raccomando, fateci un salto, sono dei contest, si vincono questi biglietti, è gratis. Insomma, penso che vi possa solamente che far piacere. Detto questo, abbiamo finito. Allora, 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 andiamo nel dettaglio. La Juventus sta vivendo un momento difficilissimo, difficilissimo, ma difficilissimo, cioè un momento, forse il peggior momento, ma senza dubbio il peggior momento della stagione in cui non ne ingappa, non ne chiappa più una e a differenza di altre squadre, mi viene in mente anche l'Inter, no? L'Inter stessa ce l'ha avuto quel momento lì, in cui sembrava la copia sbiadita di se stessa. Eppure, nonostante sembrasse la copia sbiadita di se stessa, la Juventus e l'Inter comunque riuscivano ad ottenere le vittorie, che al massimo ha perso col sassuolo, però bene o male ha cercato di ottenere il massimo dal peggior momento. Ecco, il problema della Juventus è che nel peggior momento di forma dei bianconeri stanno cercando, sì, stanno cercando, stanno rischiando di ottenere il meno possibile. E lo vediamo domenica dopo domenica. Ma la cosa che mi stupisce maggiormente è proprio la leggerezza con la quale vengono affrontate alcune situazioni. Cioè, per me, il disegno di questa Juventus, il disegno della Juventus delle ultime 3, 4, 5 partite è proprio quello che avviene dopo qualche minuto in cui Gatti regala un pallone all'Azovic che vola via, gli recupera questo errore, secondo me, madornale lì di Gatti e l'Azovic per poco non fa gol, si fa 20 metri in corsa. Ma poi il problema non è tanto l'azione di l'Azovic, non è tanto il rischio che la Juventus possa non vincere la partita, non è tanto il fatto che c'è il rischio di prendere gol, che poi lo prendono poco dopo, ma molto più bello di così. Il problema maggiore, dal mio punto di vista, è proprio la scarsa attenzione. Cioè, in quel momento, da parte della Juventus, da parte di Gatti, c'è una scarsa attenzione, che è sinonimo, che è sintomo, di come in questo momento i bianconeri non stiano proprio concentrati, come se la loro stagione fosse scoppiata. E ora io dico una cosa, è greve se la tua stagione scoppia a febbraio e tu non hai l'Europa, perché può scoppiare la stagione del Napoli se va avanti col Barcellona, che è nono, può scoppiare la stagione del Milan se vuoi vincere l'Europa League, ma la tua stagione non può scoppiare in questo momento e a te ti rimangono solo partite di campionato, praticamente. C'è la Coppa Italia, ma sono tre partite, sono rimaste sparpagliate in cinque mesi. Cioè, quindi ti devi riacchiappare, soprattutto a livello mentale. Poi, lì dove non arriva magari la disattenzione della Juventus, lì dove la Juventus non crea dei problemi, ci pensa a creargli il devasto di Foloruncio, che è un giocatore clamoroso, che io quando è venuto in Serie A con il Verona ho detto, Verona ha fatto un colpaccio perché Foloruncio, me lo ricordo già l'anno scorso a Bari, era qualcosa di clamoroso. Certo, giocare in Serie B, giocare in Serie A sono due cose diverse, però comunque non era... Ma aspettavo esattamente questo. A noi, ad esempio, della Roma ci ha fatto un gol spaziale, spaziale Foloruncio. E oggi è successa la stessa cosa. Cioè, ma fa un gol da posizione impossibile al volo, un gol bellissimo. Lì, lì non puoi dire nulla contro la Juventus. Se magari ti puoi lamentare per quanto riguarda la disattenzione di Gatti, qualche copertura difensiva che non ci sta sul gol di Foloruncio, ma che devi dire? Alzi le mani, ti incazzi, non so contro cosa, e finisce lì. La Juventus però è caparbia e la partita la riprende poco dopo. La riprende grazie a un calcio di rigore netto, perché il giatore del Verona, Ciacciua, la prende di mano. Tra l'altro, volevo prendere quell'altro da Salernitana, come si chiama? Che è simile a lui, al fantacalcio. Io invece ho preso Ciacciua, mortacci sua. E niente, questa è la mia verità. Quindi io ho Ciacciua e oggi ha provocato il calcio del rigore. E benone, e benone. Questa è proprio la mia vita. Io stronzo che lo metto pure. Questa è la mia vita. Ciacciua. Detto questo, Ciacciua, 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 Wawa, Ciacciua. Ciacciua, Ciacciua, Wawa, parte Dusan Vlaovic dal dischetto, tirato una saracca, ragazzi, una bomba clamorosa che manco... Ma il portiere manco si è buttato. Era lì stordito, di me che cazzo faccio. E arrivato sta viocina, boom, manca fatto in tempo a battezzare un angolo che la palla già era entrata in porta. La Juventus così la riprende. Se però poi devo tirare le somme del primo tempo, parto col dirvi che, innanzitutto, il Verona gioca bene. Ecco, questa è forse la grande sorpresa di questo campionato. Cioè, il Verona è una squadra che ha dei problemi giganteschi con il proprietario del Verona, il presidente, che ha dei problemi extracampo che, insomma, hanno portato poi il Verona, per discorsi da quanto ho capito, di debiti a essere costretto a vendere tutti. A gennaio hanno smantellato una squadra perché tutti i grandi giocatori del Verona sono partiti e erano già partiti quelli forti già prima. Cioè, quindi, praticamente, il Verona è una squadra che ha dovuto cambiare qualunque cosa. Cioè, ha dei giocatori che non ho mai sentito pronunciare, praticamente. Nonostante ciò, il mister del Verona sta facendo un lavoro assurdo. Assurdo, ragazzi. E il Verona è una squadra organizzata. Nel primo tempo, se vedevo di una squadra che merita di vincere, è il Verona. È organizzata, sa come creare gioco, sa come impostare. Delle volte delle azioni partono dai piedi dei giocatori del Verona e la Juve che invece fa fatica, che perde palloni, che li regala a destra e manca, che non riesce a costruire, a creare. Cioè, a me questa cosa mi ha stordito. Il primo tempo di Juve e Verona messi a paragone mi ha stordito. Cosa che io non mi aspettavo mai. La Juventus sicuramente deve un po' migliorare sotto l'aspetto della precisione dei ruoli in campo perché, parliamoci chiaro, cioè, tra difesa, centrocampo e attacco c'erano delle distanze siderali. Cioè, facevano fatica a fare un passaggio tra il mediano e il difensore centrale e viceversa perché erano a 40 metri di distanza. E un po' questo è merito del Verona che presto va bene, un po' è demerito della Juventus che fa una fatica della Madonna a mettersi in campo bene. E come è finito il primo tempo, cioè con un gran Verona, inizia un secondo tempo dove Noslin prova a fare un gol da boh, 35-40 metri, un euro goal con Wojciech Czesnik che gli dice di no, ma lì, ma in quel frangente lì, già Noslin aveva suonato la carica e il Verona aveva avvisato, ha detto guarda, che ergotto lo faccio, di problemi non me ne faccio. E questo è quello che succede. Perché l'azione dopo, difesa della Juve, tutti fermi, tutti che dormono in piedi, nessuno che c'ha voglia di fare niente, Noslin si fa trovare pronto, a Czesnik gli passa sotto le gambe. Ma regà, ma di che devono parlare? Cioè, anche qua, gatti, gatti sul 2-1, oggi gatti 3-4, che voto gli vuole dare oggi a gatti, che voto gli volete dare oggi a gatti? inguardabile, oggi gatti una cosa indicibile, oggi gatti, meno si giustifica meglio è, oggi gatti ci ha capito niente, sembrava quasi che non ci avesse voglia e dispiace per un giocatore comunque della nazionale italiana, perché io so certo che gatti è un gran giocatore, è un giocatore che ci mette la cazzimma, la voglia, però c'ha delle giornate in cui si appanna completamente, non ci capisce niente, oggi, oggi era quel caso lì, poi magari sottoporta quello che ti decide le partite, però oggi gatti era quel caso lì, e il gol del 2-1 di Noslin del Verona è assolutamente meritato, vanno fatti però, e qua lo sottolineo e non lo metto in dubbio, complimenti alla Juventus, perché sotto 2-1 rischi la partita di perderla e di non rientrare mai più in gioco, e invece è una squadra che ci crede subito, cioè il pressing della Juve, la reazione nervosa della Juve c'è, è presente e si vede, sul 2-2 c'è un errore da parte di Cabal, che continua tra l'altro a fare errori, Cabal mi dispiace ragazzi, ma io continuo a pensare a video in cui cito gli errori di Cabal, cioè ogni tre giorni fa un errore Cabal, il Verona, madonna, spara flashato in faccia, il Verona gioia una volta ogni sette, quindi per farvi capire, Cabal fa un botto di errori, lì Cabal, mi viene in mente, dice, meglio la rimessa laterale, o prender go, meglio come c'è la rimessa, difende un pallone, dà il pallone a Locatelli, non so che cazzo ci avesse in testa in quel momento Cabal, Locatelli vede Rabiot, mette giù, gol, tra l'altro vabbè Rabiot è forte, quindi non è che ci avessimo grossi dubbi, Rabiot, Adria e Rabiot riprende, riprende la partita, ed è un 2-2, da questo punto in poi, la Juventus va di monologo, va di monologo, l'unica reale occasione del Verona è quando attacca, che si lamenta del fallo di mano di Danilo, ma la Juventus in quel frangente là riparte, per poco non fa Gokovlavic, che se lo magna sottoporta, poi c'è un'altra occasione da parte della Juventus, stavolta con Chiesa, che non inquadra la porta, nel recupero, perché poi sei minuti del recupero, l'ennesima occasione della Juventus, che non fa gol, cioè dopo il 2-2, ma già dal 2-1, la Juventus, e questo gli va riconosciuto de merito, perché per quanto possiamo parlare di crisi, per quanto possiamo parlare di una Juventus, che ha mollato la presa, e forse è vero, forse no, la grande reazione della Juventus, dal mio punto di vista, va sempre considerata, e va sempre sottolineata, perché c'è, perché c'è, perché viene messa agli atti, e perché ogni partita, dimostra di essere una squadra, con dei coglioni quadrati, quindi, in questo momento qua, veramente su questa faccenda qua, non si può di niente, che poi voglio citare due cose, la prima, è del Verona, dei giallo-blu, io non capisco come il Verona, riesca a giocare così bene, vi dico la verità, cioè, è una squadra, che nonostante sia, veramente rivoluzionata, l'avevo già anticipato in video, ma, voglio continuare a ribadirlo, gioca un calcio, ragazzi, che è spaziale, cioè, per essere una piccola, gioca un calcio straordinario, se dovesse retrocedere, probabilmente sarà, la squadra, più bella da vedere, che sia mai retrocessa, ricordo, c'era un Benevento, che giocava bene, però ragazzi, qua si parla proprio di, di un'altra faccenda, cioè, il Verona gioca proprio da squadra, tipo il Bologna, gioca il Verona, poi non ottiene, perché è quello che è, di solito almeno, però, però gioca veramente bene, dall'altra parte, vanno fatti i complimenti ad Allegri, dal mio punto di vista, al di là poi, della partita, del risultato e tutto quanto, poi se i giocatori stanno fermi, c'è poco da fare, perché comunque, sul 2-2, se non sbaglio, fa due cambi, mette Chiesa, e mette, eh, Alexandro, e passa al 4-3-3, ecco, lì, secondo me, la Juventus, inizia a creare di più, inizia a creare con una, mole maggiore, il significato, è appunto, che quel cambio lì, quei cambi lì, quel cambio di modulo lì, Allegri lo azzecca, e l'occasione di Chiesa, al 94esimo, con Montipò, che fa un miracolo, perché quello è un miracolo, è proprio simbolo, di come la Juventus, di arrendersi, ad un pareggio, non ne avesse voglia, e né tantomeno intenzione, alla fine della fiera, però, questo è proprio quello che succede, cioè, la Juventus, rimane in gabbiana sul 2-2, non trova il gol, del sorpasso, e scivola, a meno 9 dall'Inter, con una partita in più, è finita? È finita, chiudete tutto, è finita, c'è poco da fare, e probabilmente già, nell'infrasettimanale, prossimo, non questo, ma quello prossimo, dovremo parlare di, meno 12 ragazzi, cioè, campionato che è finito, con grande anticipo, fatemi sapere la vostra, se vi aspettavate qualcosa di diverso, oppure no, iscrivetevi al canale, io vi ringrazio, tantissimi piaci, e buo ce l'allà, ciao!